Il nuovo presidente di Confindustria Teramo è Lorenzo Dattoli, presidente dell'azienda Carbotech SRL di Martinsicuro. Il neopresidente votato all'unanimità sarà affiancato da tre vicepresidenti, Massimiliano Bolognesi, Gianni Dell'Orletta ed Erika Rastelli. Lorenzo Dattoli, classe 1973 e originario di Pescara, ed era già nell'aggiunta esecutiva di Confindustria Teramo. Diciamo che la prima cosa da affrontare sarà sicuramente ridare vigore e forza alla Confindustria e all'Associazione Teramana. Questo grazie anche a tutti i nostri associati, al nuovo consiglio di presidenza e a tutte le persone che mi hanno appoggiato fino ad oggi in questo percorso. Lei è stato eletto all'unanimità, anche questa è una grande responsabilità? Assolutamente sì, è un orgoglio ed è anche un onore, ma soprattutto è un onere. Devo portare avanti una battaglia ed un rafforzamento dell'associazione con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto come associazione di Confindustria. Vicino a lei persone giovani? Assolutamente sì, ho sempre adorato il connubio giovani insieme all'esperienza delle persone un pochino più, chiamiamole così, avanti di età. Cercheremo di apportare sia l'esperienza sia il vigore della giovinezza. Cosa può dare Confindustria Teramo alle aziende del territorio? Deve dare, deve porsi come obiettivo quello di affiancare le aziende in tutte le loro necessità, ed è questo anche uno dei punti del programma, in tutte le loro esigenze e cercare di portarli il più avanti possibile per tutto il tessuto sociale a Teramano. Metto a disposizione la mia giovane età per mettermi a servizio di tutti i nostri associati, della loro esperienza, per ascoltarli. Sicuramente il momento ha bisogno di tanta determinazione, di presenza al lavoro. Stiamo affrontando temi importanti come il PNRR, il cambiamento climatico, l'agenda ONU 2030 che richiede il massimo sforzo. Ed è per questo che riteniamo il momento importante anche per noi giovani per metterci al lavoro. Grazie a tutti.